Il nonno di Heidi che gioca a 1,2,3 stella su Squid Game Ragazzi, oggi andremo a vedere le animazioni più belle di Squid Game Animazioni con la podcast Minecraft, il nonno di Heidi, tantissime cose belle E ragazzi, mi raccomando, scrivetemi sotto nei commenti quale di queste animazioni vi piace di più Iscrivetevi al canale, c'è un sacco di pollice in su, altrimenti il nonno di Heidi vi darà una bastonata in testa Non conviene Da quando Squid Game è nato, mi sta invadendo la onde Cos'è sta onde? Cerchiamo le animazioni più belle di Squid Game Squid Game animazioni, vai Nooo, abbiamo le più importanti, abbiamo cartoni morti Adesso mi piace di Squid Game Vai Benvenuti a tu Mamma mia, quanto è pronto con la bambola Ok, ok Se siete qui è perché avete accumulato molti debiti Stupido sindaco di Lignano che vuole farmi pagare la tassa sui cappelli Guarda Meno male che io non ne metto cappelli Mi dispiace Il primo gioco sarà un, due, tre, stella Signore, in realtà sarebbe un, due, tre, stai là Un, due, tre STELLAAA Stella, non stai là, anche se stai là Non lo so, mi interessa, io sono cresciuto con un, due, tre, stella Rimango con un, due, tre, stella, vai Ma in realtà se ci pensa non ha senso È sempre stato stai là come per dire stai fermo E non me lo potevi dire prima Ho già stampato tutti i debiam Buon gioco, un, due, tre, stella Con le stelline bellissime Mi prude il naso, posso grattarmi? No E se devo andare in bagno? Ti spariamo Eh ma se mi scappa non è colpa mia Potevi andare in bagno prima con tutti Ok, ok Ci sono altre domande? E se mi viene da ridere? Ti voglio vedere come ti viene da ridere E poi la vai dare un sacco di sasso di pomodoro per terra Ti voglio vedere? Ridere Sì ma se uno mi fa ridere Nessuno ti farà ridere Giurate che quando siamo fermi non venite qui a farci ridere Perché altrimenti non è vado Questa era inaspettata Povero tipo col cappello blu Che succede? Oggi non avevamo dato fagioli No, no Aspetta Perché? Cosa è succederlo? No Quelli squid che mi sono stati rapiti Salve ragazzi Vorrei fare un gioco con voi Certo, certo È come se avessi avuto un figlio con la casa di carta Non volevamo E so un più la casa di carta Perfetto Bellissimo Bellissimo Bravo Bravo Questi sono le cose di squid game più viste Battere pulli squid game animazione di roblox Come fa ad avere 15 minuti di visualizzazione Scusa Ma che cosa? Ma che cosa è questa arrivazione di roblox? Prendilo Prendilo No, che efficità Che efficità Molto bello Molto bello Ok, vediamo Vediamo il prossimo Among Us My Squid Game 3 3 Come 3 Come 3 Perché c'è un 2 Sì c'è pure un 2 No, vediamolo Vediamolo Among Us My Squid Game 2 Ok, siamo arrivati nel ponte di vetro Ok, siamo arrivati nel ponte di vetro Fai come il semaforo Oh, che fortuna Eeeh Eeeh Perché c'è da avanti Ah Che c'è da l'arma Ma pensateci, no? Geni del male Dovete essere bravi come loro Eh, attenzione Il viola è dietro Il viola mi sembra troppo sospetto E' stato il rosso Ma no Ma il rosso è cattivissimo Un minuto Manco un minuto E' avanti il rosso Ah certo Adesso utilizza il corpo Pure lui è un genio Del male Eh, adesso Eh Eeeh Ti sta venendo la strizza Eh Ok, vai avanti tu Giallo, ti prego Ce la puoi fare Si è deciso e determinato 36 secondi Rosso Meriti di cadere Non mi interessa Non meriti di passare Si Viola E' il tuo turno Ma dai Ma che scientifico Dai io i frarossi Vabbè Non valgono gli occhiali Dimmi che ha vinto il viola Sono il viola C'è? Si sono il viola Bravo viola No nel l'occhio Non nel l'occhio Non nel l'occhio Non nel l'occhio Non nel l'occhio Ah Vabbè Allora Non è servito a niente Cioè Sono tutti Che brutta fine Che hanno fatto Speriamo in una fine migliore Voglio vedere Among Us 3 Adormentarti rapidamente Nuovo Nova Night Tripla Perché ho visto una capra Spuntare dalle nuvole Stiamo cucinando Noi Cuochi cerchio Stiamo facendo Ovviamente Se è un cerchio Che forma farà? Questo È il gioco del caramello È il momento Oh Povero me Non ho mai visto Degli avogazzi Con un triangolo in faccia Dai che ce la puoi fare Viola Tu ce l'hai fatta Fino a quell'ora Dai che ce la fai Dai sei passato avanti Quindi passa No Hello Sto cercando Ah ok La va per No Il blu Ha scambiato L'ombrello Ehi senti Ti è chieduto Quello E invece Ti sei ritrovato L'ombrello No Senti Non sono stato io Il blu È un inf... Pezzo di formaggio Guardate adesso Parla faccia cattiva Sicuro Come piange Perché piange? Ah Perché non lo voleva fare Ma l'ha dovuto fare Beh Ma perché? Ma perché? Ma nessuno di voi Utilizza la lingua Per finire il gioco Bravo rosso Spara Sì ma è stato troppo facile Tra tutta questa marea Di video di Squid Game Ce n'è uno Molto strano Ma che cos'è? Guardate qua Ma non ha senso Voglio vederlo Voglio vederlo Sono pronto Che faccia Brutta Orrenda Orribile Abbiamo capito Alla fine Questi qua Vincolo Credo che questa sia Una posizione Umanamente possibile Però Sono arrivati Sono arrivati Eccoli E boh No Vivi come un pro E come se non bastasse Squid Game Contro Fraternite Punker Chissà chi vincerà In Squid Game Di Fnf Eccoci qua Ciao Bebriendo Tu si che sei un vero Amiquissimo Ma che ci fai con un bidone dell'immondizia innanzitutto Eccoci qua su Squid Game Chikamala Ma non eri più bella Perché sei così orribile Questo è maltrattamento Tricchi Non mi fa intriccare Qua Ok Sono pronti Inizia la sfida Witty Che a quanto pare è andato in palestra Witty Faccio un turnere No trick Witty Mi sto confusendo Secondo me il prossimo è Lemon Demon Che schioppa Lo sapevo Lo sapevo No addirittura tu eh No no Ti prego Pico no No Pico Questo claude sta facendo troppo il pazzo Secondo me dobbiamo dare una bella sistemata a voi Friendo Forza Facciola Fai qualcosa Movi un calciuffo Forza Bravo Così E' quello che si merita Ragazzi rimanete solo voi due Dai avete vinto Di resto non sei Te secondi Avete vinto Hanno vinto Hanno vinto Ok ragazzi Io direi che questo video sulle migliori animazioni Di Squid Game Lo posso anche concludere qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Lascia un sacco di pollicini in su Qua al vostro lo insiste è tutto E noi ci vediamo Ad un prossimo video E Ciao 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 Grazie a tutti.